Considerato uno dei borghi medievali più belli d'Italia, l'Antico Borgo di Bottigno è una location da sogno per ricevimenti nuziali. Un lungo e fortunato restauro ha portato al recupero dell'intero borgo, con le sue costruzioni in pietra arroccate attorno alla torre e la piazzetta. Antico Borgo di Bottigno rappresenta un luogo completo di ogni spazio necessario per mettere in piedi un evento in grado di differenziarsi per eleganza ed esclusività. L'aperitivo, il cocktail, il buffet o la cena, ogni momento potrà svilupparsi all'interno di uno scenario che sarà di sicuro gradimento per tutti i presenti. Per l'allestimento della vostra cerimonia religiosa, infine, Antico Borgo di Bottigno metterà a vostra disposizione la sua splendida chiesa medievale. Intriso di storia e fascino, questo luogo si rivelerà essere il teatro ideale per convolare a nozze e unirvi come marito e moglie. L'organizzazione delle vostre nozze verrà gestita dalla prestigiosa società di catering Soncini Ricevimenti, che sarà in grado di gestire ogni aspetto legato all'organizzazione delle vostre nozze. L'ampio ventaglio di servizi offerti vanno dagli allestimenti alla scelta del menu, passando per il servizio in tavola e arrivando alla fornitura di qualsiasi attrezzatura necessaria per concretizzare i vostri desideri. La cucina, ricca e variata proposta dagli instancabili chef, sarà in grado di rispondere a qualsiasi esigenza e aspettativa, presentandosi di eccellente qualità. In grado di deliziare i palati di ben 5.000 persone, vi regaleranno un'esperienza culinaria che non scorderete mai.